Sabato 12 settembre, alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli, si è tenuta l'Assemblea Diocesana di inaugurazione dell'anno pastorale. All'iniziale momento di preghiera è seguita la relazione di padre Giulio Albanese, missionario con Boniano, dal titolo Una Carità dal Cuore Universale. Dopo il dibattito, il Vescovo Domenico ha spiegato i punti principali sui quali ha incentrato il piano pastorale. «Guarire l'amore», «Tessere relazioni», «Carità politica» sono i temi che verranno affrontati rispettivamente il primo, secondo e terzo anno del triennio sulla carità appena avviato. Noi viviamo in un mondo villaggio globale, eppure credo che come credenti ci viene chiesto di uscire fuori le mura, perché l'andare è la legge della fede e dell'esistenza cristiana. Il locus per eccellenza della missione è la periferia, dice Papa Francesco, non solo quella geografica ma anche esistenziale, e la nostra non può essere una presenza neutrale dalla parte dei poveri. Capire che dobbiamo operare questo decentramento narrativo, affermare la logica delle beatitudini e comprendere col cuore e con la mente che abbiamo un destino comune. Dunque i problemi della periferia sono in fondo i problemi del centro. Grazie a tutti.